C'è anche la mano dell'Andrangheta calabrese dietro la strategia stragista ordita dalla mafia siciliana agli inizi degli anni 90. Sono due gli arresti eseguiti questa mattina dalla polizia nell'ambito dell'operazione denominata proprio Andrangheta stragista che ricostruisce una delle pagine più oscure della storia italiana. La nuova ordinanza di custodia cautelare è stata notificata a Rocco Santo Filippone, boss calabrese legato alla potente famiglia Piromalli e a Giuseppe Graviano, capomafia del mandamento di Brancaccio a Palermo. Sono ritenuti i mandanti del duplice omicidio dei carabinieri Antonio Fava e Giuseppe Garofalo, uccisi nei pressi dello svincolo di Scilla il 18 gennaio del 94. Ai boss calabresi siciliani vengono contestati anche altri due agguati in cui rimasero feriti altri quattro militari dell'arma. Per i magistrati della DDA di Reggio Calabria sarebbero tutti tasselli di un unico inquietante piano, un attacco ai rappresentanti dello Stato per sovvertire l'ordine repubblicano. Una strategia elaborata insieme ai vertici di Cosa Nostra. I pentiti hanno raccontato di almeno tre summit avvenuti in Calabria, uno in un resort, il Vibonese, e altri due a Opido a Mertina nel Regino, in cui gli incontri i corleonesi convinsero i vertici del clan calabrese ad attaccare lo Stato. Il preludio alle cosiddette stragi continentali a Firenze, Roma e Milano, Gli attentati contro i carabinieri in Calabria, quindi, secondo gli inquirenti e gli investigatori reggini, non vanno letti ciascuno in maniera singola e isolata, ma vanno inseriti in un contesto di più ampio respiro e di carattere nazionale. Nell'ambito quindi di un progetto criminale, la cui ideazione e realizzazione è maturata, non all'interno delle cosche di Indrangheta, ma si è sviluppata attraverso la sinergia, la collaborazione e l'intesa di organizzazioni criminali. Secondo le dichiarazioni del pentito siciliano, Cesare Spatuzza furono proprio i calabresi ad aprire le danze. Graviano racconta, mi disse che dovevamo fare la nostra parte perché i calabresi si erano mossi uccidendo due carabinieri. Dall'alba di oggi sono state eseguite perquisizioni in diverse regioni d'Italia, alle operazioni eseguite dalla squadra mobile di Reggio Calabria, dal servizio centrale antiterrorismo e dal servizio centrale operativo della polizia di Stato, partecipano anche i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria. Grazie a tutti.